Viene una piena disponibilità a fare un lavoro assieme, per noi sarebbe l'elemento fondamentale perché Figline Incisa insieme a San Giovanni e insieme a Montevarchi sarebbero le realtà più significative del Val d'Arno e potrebbero davvero orientare in maniera importante la discussione. Noi ovviamente siamo la porta di questo accesso alla vicinanza a Firenze e quindi alla Slecentra e quindi sicuramente siamo disponibili perché aumentare comunque la voce, il potere contrattuale dei territori a sud di Firenze è importante e potrebbe essere davvero la strada per portare a casa dei risultati.